Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, siamo a Cuneo, in Via Roma, tante le iniziative. Questa iniziativa è partita proprio dai ragazzi dell'Ipsmat, che è una scuola prettamente maschile. È stato proposto loro questa giornata ed è stata accolta a braccia aperte anche in modo molto molto serio. Sono state diverse classi, questa è la mia quarta T, Ipsmat, la nostra quarta T Ipsmat, con il professor Simondi, e devo dire che si sono argomentati in modo molto profondo. Buona giornata a tutti!